Mentre l'Italia tutta si appassiona alle sorti dell'elezione del Presidente della Repubblica e a tutte le dinamiche della pandemia, oggi ancora tantissimi morti purtroppo, le cancellerie europee, i governi europei e il governo inglese e il governo degli Stati Uniti sono invece alle prese con un dossier molto rognoso, preoccupante, che è quello dell'escalation dei rapporti tra l'Ucraina e la Russia. Voi sapete benissimo come Putin ha deciso di ammassare un notevolissimo numero di truppe, si parla di quasi 170.000 soldati alle frontiere dell'Ucraina, insieme a tutta una serie di mezzi militari blindati eccetera, e anche in Nembielorussa, in certi versi quindi accerchiando i confini lunghi che la Russia ha con l'Ucraina. Ma perché alla fine c'è tutta questa situazione che sta veramente creando molta preoccupazione e ansia in Europa, che ricordiamo non vi è una guerra in Europa da oltre 70 anni? Ma è soprattutto perché vi sono tre motivi principali per cui la Russia ha delle mire ben precise sull'Ucraina. La prima è sicuramente di ordine storico, tra l'Ucraina e la Russia vi è un rapporto che risale a tantissimi anni fa, basti pensare che già al IX secolo iniziano i rapporti tra questi due paesi, e nel 1988 addirittura il gran principe Vladimir rintroduce la religione cristiana ortodossa in tutta la Russia. E poi si passa nel 1654, quando vi è questo trattato che appunto sancisce una forte unione tra i due stati, e poi l'Ucraina, Bielorussia e Russia sono il nucleo fondamentale di quello che poi sarà la vecchia Unione Sovietica. Ecco che quindi i rapporti sono fortissimi perché anche i due stati parlano quasi una lingua molto simile, e appunto la Russia reputa l'Ucraina come un suo stato satellite e dolorosa come ha scritto Putin è stato proprio il distacco da parte dell'Ucraina dalla Russia. Il secondo motivo è molto più importante perché dal 1991 con il disfacimento della vecchia Unione Sovietica, ben 14 delle repubbliche che una volta facevano parte del patto di Varsavia, sono entrate invece a far parte dell'alleanza atlantica dalla Nato, cambiando completamente lo scenario dell'est europeo. E quindi la Russia si sente accertata dall'alleanza atlantica e soprattutto vuole evitare a tutti i costi che anche l'Ucraina appunto faccia parte più in avanti della Nato. Al momento l'Ucraina non può entrare nella Nato perché è in guerra e non si può appunto far parte dell'alleanza atlantica, non si può entrare nella Nato quando vi è un conflitto in corso. Ma poi vi è appunto un terzo motivo molto importante che è quello che Putin, sappiamo la sua idiosincrasia per quello che possono essere regimi democratici, e per le rivoluzioni democratiche, perché teme che l'Ucraina, che appunto ha un governo filo occidentale, possa essere quella tarma, quella cosa che si introduce nel sistema russo e lo fa saltare. Quando Putin ha invece tutta l'idea di ricreare un po' quella vecchia Unione Sovietica che era tanto forte negli anni passati. Ecco che quindi vi sono tutta una serie di motivi che fanno sì che Putin, che appunto come dicevamo all'inizio reputa molto doloroso il distacco dell'Ucraina dalla Russia, vuole ricreare una certa egemonia su quel paese, perché quel paese nel 2014 ha defenestrato con una rivoluzione proprio democratica il vecchio governo filo russo e anche nel 2019, nelle elezioni che si sono avute, è stato eletto un premier che è molto filo occidentale, come filo occidentale è tutta la popolazione giovane di quello stato che guarda all'Occidente e quindi all'Europa come un possibile sbocco per una crescita futura togliendosi da quel gioco molto pesante che invece Putin sta attuando in Russia. Tutto questo gioco fa sì che appunto Putin ammassa frontiere, alle frontiere delle truppe della Russia. La NATO, seppur non facendo parte dell'Ucraina ancora dell'alleanza atlantica, ha dato tutta una serie di armamenti, ha fornito armamenti, Biden ha messo in allerto 8500 uomini che può mandare immediatamente sul fronte e quindi l'escalation è notevole, già le cancellerie inglese e forse anche l'ambasciata americana hanno cominciato a ritirare tutto il personale dalle proprie ambasciate e quindi vedete che l'escalation si fa sempre ogni giorno più pesante. Ma alla fine effettivamente Putin ha interesse ad un attacco militare su vasta scala? Questa è una bella domanda. Certamente l'uomo che vedete qui rappresentato è uno che è avvezzo anche ai blitz militari, lo ha fatto con l'annessione della Crimea in Georgia, ha bombardato la Bielorussia, quindi non disdegna mai l'opzione militare, però è evidente che vi è anche un motivo di carattere economico che secondo me frena un attimo la Russia ad una invasione a larga scala dell'Ucraina, perché è un problema anche di carattere economico, perché già l'annessione che ha fatto della Crimea ha avuto un forte impatto sul prodotto interno lordo della Russia, ha dovuto fare un prelievo forzato per andare a finanziare i costi di quella annessione, quindi un altro impegno militare forte in uno stato che guardate che la Crimea è due volte come estensione l'Italia con 45 milioni di persone che abbiamo visto la stragrande maggioranza è filo occidentale, quindi non sarebbe molto accogliente con l'invasore russo, quindi una guerriglia quasi casa per casa. È molto più probabile che allora Putin possa pensare a dei piccoli interventi militari sulla frontiera per cercare di staccare delle repubbliche che sono separatiste e a cui è già fornito per esempio mezzo milione di passaporti russi. Quindi uno scenario molto complesso che ha poi una ricaduta di carattere economico fortissimo, proprio anche per l'Europa tutta, perché è bene ricordare che il 40% di tutta la fornitura di gas europeo arriva dalla Russia e passa proprio da quello stato. E quindi è ovvio che se Putin attaccasse l'Ucraina e le sanzioni di ritorsione da parte dell'Europa fossero pesanti, ecco che le forniture di gas verrebbero chiuse con uno shock quasi energetico di immani proporzioni in un periodo già come quello che stiamo attraversando di forte tensione sui prezzi del mercato del gas e poi ovviamente anche della luce come ben sapete. E' ovvio che quindi qui le cancellerie europee sono tutte al lavoro per attivare tutti i canali diplomatici possibili. Fra 15 giorni andrà a Mosca il ministro degli esteri inglese a parlare col suo omologo russo. Già un primo incontro da remoto si è avuto tra Biden e Putin dove non vi sono stati grandi passi in avanti anche perché le richieste che ha fatto Putin a Biden sono ben precise. Quelle di non fare entrare nella Nato l'Ucraina e soprattutto quella di fare che le 14 repubbliche che si sono staccate dal patto di Varsavia dovrebbero uscire dalla Nato e quindi dovrebbero essere ritirate anche quegli armamenti e quelle truppe che la Nato ha dispiegato in Polonia, Polonia che è molto vicina come sapete anche alla Russia e che Putin ne vede come un pericolo per la sovranità del suo Stato. Ecco che quindi le diplomazie sono al lavoro e mi auguro che anche la nostra diplomazia, quella italiana nel momento in cui ci auguriamo finisca a propesso tutta la fase di elezione del Presidente della Repubblica possa dare quel contributo di dialogo e di mettere in campo tutte quelle che possono essere le operazioni diplomatiche per evitare un'escalation molto più pericolosa. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata.